eccoci qua carissimi amici vi do un saluto a tutti qua da marvin e poi guardate un po chi è che oggi di compagnia chiaramente eccolo qua ciao carissime amiche e ciao carissimi amici del canale del marvin come avete visto la sveglia è un momento vintage amici veramente vintage abbiamo qualcosa di veramente spettacolare sono senza parole vai marvin e amici e amiche sedetevi sul divano lasciate le cinture si parte eccoci qua carissimi amici appassionati appassionati di auto storiche fra poco vi farò vedere cosa ho dietro le spalle sono qua chiaramente con correnatone appunto che insomma doveva esserci anche lui in questo rapport tra l'altro anche nelle nostre zone eccoci qua cari amici appassionati di auto fiat appassionati di fiat 128 caro renato spettacolo lo stato puro è eccoci qua abbiamo questa fiat 128 familiare penso una seconda serie caro renato che tra l'altro una seconda serie familiare al giorno d'oggi è quasi impossibile trovarla certo amici la seconda serie ricordiamo era stata costruita dal 1972 al 1976 ecco qua questa macchina più o meno dovrebbe avere una cilindrata sui 1100 ecco più o meno sui 1100 una potenza cavalli prima abbiamo detto renato sui 40 mi sembra abbiamo detto sui 40 da quello che appunto abbiamo letto su wikipedia seconda serie chiaramente la particolarità oltre a essere un 128 che abbiamo detto tutto è il familiare veramente veramente spettacolare e bella marvin eccoci qua con colore originale ritargata perché vedo la targa del 1983 la macchina sarebbe anche in vendita se così com'è se a qualcuno interessa eccoci qua cari amici appassionati gustiamoci centimetro per centimetro di quest'auto che dicono appunto che al tempo quest'auto poteva raggiungere anche i 140 km orari ecco qua meraviglia marvin mi stai facendo un regalo guarda marvin non ho parole guarda meraviglia eccoci qua carissimo renato meraviglia appunto mi tolgo anche i guanti perché voglio toccarla con le mie mani accarezzare il vero vintage perché noi io il marvin chiaramente da tale età siamo amanti proprio degli anni settanta credetemi credetemi merita merita poi una familiare ecco qua ora ora guardate qua uno spettacolo marvin uno spettacolo guardate se qualcuno fosse interessato contatti il marvin perché la macchina viene venduta veramente una macchina particolare ricordiamo poi 128 e abbiamo detto tutto ecco qua 128 appunto che al tempo aveva sostituito la fiat 1100 appunto già nel 69 perché la 128 è stata prodotta in tre serie tra il 69 e l'85 questa è una seconda serie appunto dicevamo dal 72 al 76 bella mamma mia ora qua renato vai dentro dimmi se vedi bene quanti chilometri ha insomma mamma mia mamma mia attenzione non ci vedo benissimo voglio gli occhiali vorrei dire una parola i miei polmoni io ho qua degli occhiali sono gialli qua così occhiali gialli vabbè il bello della diretta ecco qua ecco con due paio gli occhiali e così mi dici è 59 mila chilometri ma una mila chilometri credimi i miei polmoni adesso mi stanno ringraziando sto respirando profumo vero vintage amici eccoci qua cari amici appassionati ti lascio entrare i vecchi motori appassionati di vecchi auto appassionati di vecchie fiat saluto anche il bravissimo paolo appunto delle zone di teramo che mi sembra che anche lui si è imbattuto appunto a ristaurare una fia 128 familiare e qua cari amici ve la faccio vedere bella marvin bella ora qua che spettacolo veramente poi ripeto una fia 128 familiare ti ripeto io non la vedo neanche ai raduni insomma ora marvin guarda che bella diretta questa è veramente una bellissima diretta pazzesca eccoci qua 128 e sempre 128 ricordate eccola qua caro renato te che sei pratico vediamo se riesci ad aprire il baule c'è il baule il cofano c'è un po di casino ma a noi piace leggero casino ma piace l'ambientazione piace tutto eccoci qua cari amici appassionati il motore lo stanno sistemando chiaramente chiaramente lo stanno sistemando lì vedi la vaschetta del refrigerante vedi i numeri della 128 marchiati e qua vediamo la pompa dei freni se mi vai sulla pompa dei freni bisogna mettere un po di olio batteria manca e il motore lo stanno sistemando eccoci qua adesso facciamo vedere qua la mascherina completa di tutto questa 128 veramente veramente bella credetemi è veramente bella e completa e vedo che non ha neanche grossi problemi eccoci qua assolutamente da rimettere in strada questa macchina appassionati appassionati di auto storiche qua abbiamo anche adesso che colgo l'occasione per salutare la bravissima alessia da roma che appunto una ragazza appassionata di di auto storiche ciao alessia ciao alessia ciao anche lucia e so che alessia so che in questo periodo sta cercando una clio poi non so se questa clio che cerca comunque alessia da roma insomma 22 anni insomma vuole trovarsi una clio è io qua caro alessia ti regalo una clio di sfumatura eccola qua così facciamo vedere insomma appunto che questa zona recupera anche auto auto punto qua con 16 valvole recupera anche auto sportive eccetera eccetera e niente ragazzi e ritorniamo qua sulla 128 guardate qua il nostro amico renatone non ho parole un familiare così non si trova tutti i giorni familiare pazzesco ragazzi pazzesco è complessa questa vettura è messa abbastanza bene ora qua cara alessia ancora una volta un'altra clio appunto di sfumatura so che appunto cerchi una clio e poi la sfumatura sulla ruota dietro adesso appunto si facciamo vedere un po' traccia appunto la gente mi chiede anche queste auto eh però renato torniamo qua sulla 128 i miei polmoni ringraziano ecco qua eh mi respiro credetemi è un profumo proprio di vintage anni 70 e i miei polmoni dopo una settimana di lavoro nello smog nel disastro ambientale chiaramente c'è qualcosina da fare perché la carrozzeria vedo che qualche trassa di corrosione c'è però la macchina è tutta sana è completa ma è completa sì sana è un po da risanare però appunto però si può mettere a posto tranquillamente credimi ecco qua comunque ragazzi questa è un'auto chiaramente che è anche in vendita così com'è oppure se qualcuno la vuole sistemare insomma certo contattate il marvin che se qualcuno la vuole sistemare o la prendete così com'è l'auto è in vendita è un'auto molto particolare tu che sei esperto il 128 quella lì ha un 4 marce o un 5 marce tu che sei no no chiaramente è un 4 marce 4 marce vabbè eccoci qua cari amici appassionati l'abbiamo fatto vedere ascolta renato volevi farmi vedere quel disegno un po' particolare eh che così salutiamo vediamo un po' se ce la fai eh intanto io faccio una ripresa se la ho nel portafoglio perché chiaramente è nel mio cuore eccoci qua cari amici appassionati insomma con questa 128 così salutiamo il nostro dov'è che l'abbiamo messo aspetta aspetta che non ritrovo niente dai va bene renato ha perso ha perso qualcosina comunque dai va bene lo stesso renato abbiamo un'altra macchina per trovare il disegno intanto salutiamo il grande vorrei che andassi lì te marvin a salutare perché davanti esatto intanto salutiamo il nostro amico max girardello la nostra grazie massimo grazie ancora di cuore saluto antonio da salerno saluto demis chiaramente saluto diego d'autona tutti gli appassionati di fiat appunto è appunto massimiliano il pasto meccanico di roma che sei troppo forte massimiliano c'è un mito guarda credimi un meto ti saluto di cuore salutiamo chiaramente ulisse che vuole i saluti e tutti quanti chiediamo scusa a chi non ci ricordiamo di salutare in questo momento ma vi assicuro che vi ricordiamo tutti eccoci qua amici appassionati mi dai anche me il microfono se arriva mi senti andiamo qua ci sono mi vedi sì ti vedo marmi mi sembra che funziona qua eh l'abbiamo cambiato rotto sull'alto ragazzi io qua vi saluto vai vai la vai renato fai una sfumatura l'auto adesso eccoci qua cari amici noi siamo sempre al servizio della gente a noi ci piace divertirci così non non facciamo nulla per guadagnare nulla ecco e non facciamo niente di male questo è un divertimento una sana passione credetemi ecco qua vai renato qua adesso credetemi ecco qua amici e amiche ricordiamo piano marvin che c'è in diretta ecco qua renato fantastico perché abbiamo visto il marvin con il microfono in in mano finalmente il marvin davanti ai microfoni ragazzi vi ringraziamo ancora di cuore amici e amiche che seguite il canale del marvin perché abbiamo bisogno del vostro sostegno ok saluto anche i ragazzi mattia lorenzo e loris ragazzi giovani salvatore quelli che mi hanno scritto eccetera eccetera e tutti quanti dico curadini gli storici roberto gialdi e tutti quanti dai e spettacolo è anche antonio mariotti dall'abruzzo spettacolo ragazzi ciao a tutti viva il vintage viva gli anni 70 e viva la 128 familiare ciao amici e ciao mic e un saluto chiaramente a lucia appunto barberino del mugello con elio ciao a tutti spettacolo